Come una farfalla posata sul volto, è il sorriso di Beatrice, la Beatrice di Troisi. Ha ormai 20 anni dal postino, 5 nomination, da allora incarna la bellezza e la sensualità, l'italianità nel mondo, l'Italia del cinema. Parte da lì per una produttrice, regista, artista a tutto tondo. Mi manca il fatto di non riuscire a portare all'estero i film italiani. Questo è quello che mi manca, perché io sono nata con un film italiano che è andato in giro per il mondo. E quindi tutto questo mi manca, ma non soltanto per me, mi manca per l'Italia. Perché un film non è soltanto un film, un film è la possibilità che dai al tuo paese di uscire fuori, di mostrare le bellezze, il territorio, la cultura, di portare turismo, di portare ricchezza. Dalla violenza, la vedremo a fine gennaio nella moglie del sarto. Non si piega agli stereotipi, non ha paura di lavorare in un universo maschile. Tutto oggi, dove la società ti ha portato a un livello altissimo di internet, il lavoro per tutti, l'equaglianza, questa equaglianza non c'è, assolutamente. Perché poi tu ritorni a casa e comunque vuoi essere madre, vuoi essere moglie. E tutto questo non deve diventare una rinuncia per poter lavorare, perché lo puoi fare ugualmente.